Ciro Barbato, direttore artistico della manifestazione, un evento molto importante che fa tappo a Salerno, l'ultima del Sud Italia, quindi tanti e tanti giovani arrivati anche da altre regioni. Sì, la nostra gioia è stata proprio quella di avere oltre 300 richieste, soprattutto dal Sud Italia, ragazzi provenienti dalla Calabria, dalla Basilicata, dalla Sicilia. Saranno qui a Salerno, ne abbiamo potuto scegliere soltanto 50, tra campani ovviamente e quelli provenienti dalle altre regioni, per ovvi motivi, perché avremmo fatto una chermessa impensabile. E quindi stasera, grazie alla commissione di 12 giurati preparatissimi, ascolteremo e daremo anche suggerimenti artistici importanti, perché per noi questo non è un concorso, non è una gara, è un momento di ascolto. Ecco, l'abbiamo chiamata audizione concerto, perché i ragazzi si esibiranno in questa cornice meravigliosa che è il Golfo di Salerno, quindi per noi è uno spettacolo nello spettacolo.